ciao a tutti e adesso partiamo con questo video dove vi andrò a illustrare la seconda parte delle novità di cui non vi ho parlato nel primo video che per chi l'avesse perso metto qua sopra il link per l'andarlo a vedere delle novità dicevo che lightbar ha introdotto nella versione 1.5.00 che uscirà a brevissimo su ritengo per lo meno non so precisamente quando ma dovrebbe uscire a brevissimo ed essere disponibile per tutti ho fatto una carellata già nel primo video di alcune di queste nei commenti qualcuno non era molto soddisfatto non tanto del video ma di quello che lightbar ha implementato vediamo se riusciamo a contentarlo con questa seconda parte non ci sono delle novità rivoluzionari ci sono tante piccoli tanti piccoli miglioramenti che andranno sicuramente offrirci qualcosa di interessante farò poi come già detto nel primo video una serie di approfondimenti per quelle novità per quei comandi per quelle funzioni che ritengo da sviluppare un pochettino per quanto riguarda le loro funzionalità come si usano in quali occasioni si possono usare eccetera eccetera ma adesso vediamo la sigla e poi andiamo a vedere le rimanenti novità la prima cosa che voglio far vedere è una macchina virtuale che possiamo andare ad installare su lightburn nei casi in cui io non abbiamo ancora il laser magari qualcuno non ancora comprato lo sta aspettando oppure semplicemente vuole andare a vedere come si ci si muove un po su lightburn oppure per chi ha già un laser settato se vuol fare qualche progettazione magari mentre la macchina sta lavorando eccetera eccetera può anche fare una aprire una macchina virtuale adesso vi faccio vedere come si fa andiamo nella scheda laser di lightburn dopodiché andiamo su periferiche e andiamo a fare manualmente una nuova macchina quindi creo manualmente ecco vedete la prima icona in alto che vediamo qua è no machine cioè nessuna macchina perché questo perché questo con questa configurazione non prevede una connessione fisica fra il computer e dei laser ma andiamo a vedere nel dettaglio no machine next poi andrò a impostare un piano di lavoro virtuale anche questo io replicherò più o meno quello del mio quindi 400 per 400 next poi darò l'origine quindi come laser a diodo solitamente sono in avanti e a sinistra do next non c'è vedete già fatta praticamente nessuna macchina e nessun collegamento virtuale finito a questo punto possiamo andare quando vogliamo aprire il questa simulazione possiamo andare a aprire questa macchina quindi faccio ok e sarà qui nell'elenco delle macchine vedete l'ultima è no machine quindi clicco su no machine ecco come vedete no machine e non mi fa vedere nemmeno la diciamo la la porta com perché già di default viene settata senza alcun collegamento provatela può servire appunto per fare alcune prove per vedere alcune cose per chi vuol provare magari effettivamente una macchina senza lightboard senza avere una macchina fisica nell'altro video abbiamo fatto vedere quel puntino blu che compariva quando andavamo a disegnare dei poligoni e vi avevo detto che praticamente sostituiva il radius ora diciamo che il radius non è stato sostituito ma secondo me è stato promosso perché ve lo faccio vedere allora innanzitutto vado a disegnare un rettangolo e vedete che se lo vado a selezionare o qui sopra il puntino blu quello che fa fare praticamente il raggio al oppure raggio interno raggio esterno e quindi quello che sostituisce il radius con ritorno indietro in modo da rifare il rettangolo vi faccio vedere il radius adesso come funziona perché è una cosa veramente interessante allora vado a selezionare un cerchio o un'ellisse così poi me lo seleziono me lo metto qua seleziono tutte e due mi vado a fare una bella unione booleana in questo modo e vi faccio vedere come funziona il radius quindi do l'ok e adesso vado con il mouse a cercare radius il radius ve lo dico visto che è stato promosso anche io e roberto l'abbiamo promosso perché sulla nuova tastiera che uscirà il radius sarà uno dei tasti adesso non è presente ma lo sarà una versione che dovrebbe uscire a breve diciamo a breve perché ci siamo quasi andiamo a vedere appunto radius radius di 10 abbiamo fatto se io vado qua posso fare il radius qua radius una volta faceva solamente i poligoni e o i rettangoli e adesso invece fa praticamente quasi tutte le forme qui fa un qualcosa un po di strano e vediamo che arrivare indietro perché quando un angolo è troppo acuto me lo va a chiudere quindi questo è un una cosa che fa il diciamo in questo modo qua ma non finisce qua perché se io mi vado a selezionare questa forma me la sposto e vado a selezionare la matita faccio una riga in questo modo proprio così a così proprio al cavolo di cane come si direbbe questo punto me la vado a selezionare vado a prendere radius e vi faccio vedere che adesso radius me lo fa anche negli spigoli delle curve qui ora mi mi dice attenzione perché c'è qualcosa che non va forse dovrò spostarlo che devo ancora studiarlo bene ecco vedete che mi va a fare tutte queste curve qui forse un po troppo stretto e qui ecco me lo fa fare in questo modo vedete ci sono tante possibilità adesso che servono anche per magari progettare eccetera eccetera quindi magari andiamo un po con lo strumento di editazione dei nodi a vedere ecco un pochettino così quello quello che non mi faceva lo facciamo in questo modo poi ritorno sulla tastiera principale e vado a riprendere il radius ne vediamo adesso ecco vedete qua non me lo fa bene nemmeno qua quindi devo studiarlo un pochettino però effettivamente vedete che su certi su certe posizioni me lo fa bene un compaiono delle freccette che non capisco bene cosa sia spero che quando uscirà la versione definitiva ce lo spiegheranno comunque vabbè era un'altra novità di questa versione che ci tenevo a farvela vedere perché questo va approfondita anche questo lo vedremo magari in uno dei prossimi video che farò un'altra novità che è un pochino comoda niente di eclatante ve lo dico subito metto già le mani in avanti allora ve la faccio vedere adesso devo andare a tracciare e anche in questo caso mi vado ad aiutare con lbc vado a tracciare un rettangolo come vedete messi aprono tutte le cosine come quando c'è una qualsiasi forma sul sul piano di lavoro e ritorniamo in selezione dell'oggetto lo selezioniamo appunto in questo modo e cosa facciamo andiamo a voler cambiare le misure allora da questa versione c'è la possibilità di andando a cliccare sulle unità di misura di andare immediatamente a cambiare il valore nella casella corrispondente per esempio clicco su millimetri mi si apre questa clicco su percentuale mi si apre questa mentre prima si doveva andare quattro erano raggruppati i millesimi e i millimetri invece adesso se vogliamo fare tutto così lo facciamo con un colpo solo non è una grandissima novità però vabbè anche questa diciamo che aiuta un pochettino ecco non è una grande cosa andiamo a vedere un'altra funzionalità nuova non è nuova c'era già però è stata migliorata leggermente e si tratta di material test quindi laser tool material test niente di particolare rispetto all'altra versione se non l'aggiunta di questa nuova di questa nuova casella per andare a editare il bordo che prima non c'era perché prima erano presenti solamente l'editazione per quanto riguarda proprio il vero e proprio test del materiale l'editazione per quanto riguarda i settaggi del testo del testo proprio del lettering del test dei materiali e adesso c'è anche questa che è il border perché andiamo a vedere con l'anteprima ecco vedete che adesso prima non c'era c'è questa casella questa diciamo questo rettangolo che praticamente se andiamo a settare il livello 02 quindi il livello rosso giustamente con i valori giusti ci andrà a tagliare il nostro nostro test dei materiali prima non c'era dovevamo farlo poi seguito noi e diciamo che questa è una comodità aggiuntiva anche questo niente di eclatante però a piccoli passi riusciamo a fare tante altre cose allora un'altra novità che per me che lavoro molto con la finestra console è veramente interessa per me interessante poi non so quanti la useranno però è veramente comoda vado in console e c'è la cronologia ovvero sia vi spiego cosa succedeva prima e cosa succede invece adesso allora facciamo ipotesi voglio andarmi a listare tutti i comandi e i settaggi che ci sono nel firmware della macchina quindi faccio solitamente io vado a fare il dollaro dollaro in questa casella do invio e vedete che me li ha messi tutti ed essi è posizionate in fondo ora lo rifaccio perché vi faccio vedere la differenza ecco se prima io avessi fatto dollaro dollaro e poi invio me l'avrebbe scritti sotto a quella finestra lì e non me l'avrebbe io molto probabilmente è successo a volte che qualcuno metto ho cambiato i parametri ma li vedo che sono sempre uguali perché non scrollava come fanno tutte le procedure nel mondo verso la parte più nuova io do dollaro dollaro invio e vedete che ne avrò due uno qua e uno qua mentre prima si fermava in quel modo non era una cosa simpatica specialmente per chi come me lavora molto con questo perché a volte mi chiedete di intervenire mi chiedete alcune informazioni così via chi mi ha contattato lo sa che la prima cosa che vado a vedere vado a vedere settaggi con dollaro dollaro per cui ecco per me è molto comoda che vedo sempre l'ultima l'ultima versione del listato della console o dei movimenti della console o anche per vedere semplicemente quando sono in lavorazione del laser i vari passaggi che mi fa la macchina altra novità anche questa non diciamo che non ne vedo molto l'uso e la diciamo la necessità è questa praticamente quando noi andiamo in finestra esposta se abbiamo attivato il la possibilità di poter vedere il laser vediamo qui che c'è la potenza che andiamo a segnare che è solitamente se incremento si diminuisce di 0,25 per cento la potevamo mettere solamente qua adesso possiamo andarla mettere anche da impostazioni periferica vedete che quando io vado a fare laser per entra potenza è laser qua quando fa il framing e quindi abilita il pulsante attivazione laser quindi l'attiva quel pulsantino che vediamo qua e poi laser on quindi accendi il laser mentre sta facendo il framing posso andare a variare anche di qua la potenza vedete per esempio lo voglio mettere a 0,25 che è quella solitamente che ho do ok e mi è andato a cambiare anche in questa casella già che ci sono vi dico spesso vedo nel forum e quindi nel nel gruppo di facebook come faccio a aumentare la velocità del frame eccetera eccetera si aumenta da questa scheda quindi dalla scheda della velocità qui nel questo più o 6000 nella nella scheda sposta così ho fatto anche questo piccolo inciso allora visto anche questo il prossimo argomento che volevo farvi vedere sono le matrici allora le matrici c'è stata fatta una una piccola aggiunta allora proviamo a fare una disegniamo un rettangolo in questo modo e andiamo a fare una matrice magari facciamo una matrice circolare facciamo una matrice circolare e andiamo ad allargarla un pochettino andando a mettere il il centro da qualche altra parte quindi andiamo ad aumentare in questo modo così la possiamo vedere ma quello che voglio farvi vedere non è tanto questa fantasmagorica rosone che ho fatto quanto questo vedete che c'è group results cioè raggruppa i risultati perché prima non c'era questo questo selettore per cui tutti gli elementi erano separati uno con l'altro quindi invece lo possiamo andare a raggruppare facciamo ok e se vado a spostarne uno devo andare in selezione scusate ecco andiamo se prova andando a spostare uno mi si sposta tutto prima era un po effettivamente questa è una cosa abbastanza comoda perché prima non c'era dovevamo raggrupparli noi perché si correva il rischio di andare prenderne uno e bisognava ricominciare quasi tutto da capo per cui si entrava un po si impanicava leggermente così invece li raggruppiamo ecco pensiamo quando dobbiamo fare orologi e cose del genere che non serve che andiamo a raggruppiamo per cui li andiamo a muovere tutti insieme per posizionarli eccetera eccetera lo stesso si può fare anche con diciamo la questo questo me lo sposto vado a utilizzare questo me lo ingrandisco un attimino si può fare anche con le matrici rettangolari vedete anche qua c'è group result cioè raggruppa risultati oppure lasciali singoli sposto questo andiamo a vedere magari facciamo una matrice tre per tre in questo modo e anche qui c'è la possibilità di lasciarli sciolti oppure di raggrupparli come avevamo fatto prima vedete questo me lo fa sciolto se io andavo a fare il scegliere il group result quindi vai a raggruppare risultati sarebbero stati ottenuti e potevo spostarmeli tutti insieme quindi questa è una scelta in più che è abbastanza comoda anche questa allora ci sono state anche delle migliorie per quanto riguarda alcuni file per esempio file png file pdf e anche file se non ricordo male sono gli svg sono state fatte alcune migliorie però diciamo che non sono così apprezzabili se non per alcune cose che devo ancora approfondire perché effettivamente pensavo alcune cose sui png invece non era quello quindi devo capire un po cosa è stato fatto l'ultima novità che voglio farvi vedere riguarda invece le librerie le librerie del dei materiali che sono queste ecco io per esempio qua ho tutta la mia libreria con tutti i materiali e c'è un pulsante in più merge che vuol dire merge vuol dire unisci quindi metti insieme e a cosa serve questa questo pulsante merge ecco può servire principalmente a chi ha magari gestisce con lo stesso light burn più stampanti laser quindi praticamente magari ce n'ha una con un certo vattaggio un'altra con un vattaggio più potente meno potente per cui sapete che ogni macchina ha le proprie impostazioni e magari si è creata una libreria per la macchina da 10 watt quella da 20 watt quella da 5 e mezzo con merge praticamente andando nella tab quindi nella finestra delle librerie si va in appunto in questo caso in merge e si apre la diciamo la cartella dove sono esposte dove sono memorizzate tutte le librerie vedete io qui ne ho alcune e se io volessi potrei andare a fare un merge cioè una fusione un vado a prenderle da una parte le metto a quell'altra vi faccio vedere in questo caso se io dovesse aprire io adesso sto utilizzando la mia 5 e mezzo se io volesse andare a aprire vado aprire la ortur 7 e mezzo vedete che mi dice guarda questi ce li è già e sono quelli verdi questi invece non ce li hai e così via quindi posso andare da utilizzare quindi a mettere insieme le due cose quindi vedi replace quindi prendimelo e mettimelo in quell'altra così via quindi riesco a combinare più librerie insieme per averle tutte una unica libreria una grossa con tutte le impostazioni anche questo lo vorrei avere qui keep original replace the new one rimpiazza e rinomina l'originale così via quindi questo è comodo magari per chi ha più macchine nel mio caso io c'ho solamente una poi vabbè ho due teste se dovessi andare a utilizzare altro l'altro modulo che con un pochino più piccolo di questo mi basterebbe c'ho già la mia libreria vado a prendere quelle invece che questa quindi anche questa si può essere comoda però ne vedo un'utilità veramente limitata a pochi utenti specialmente utenti obbistici ecco io penso di avervi fatto una carellata nei due video completa di queste novità della 1.5.00 di lightburn non so se siete rimasti entusiasti non credo proprio però soddisfatti diciamo oppure completamente soddisfatti non è ancora uscita io ho utilizzato una una beta e che tra l'altro è scaricabile sul dal sito di lightburn bisogna però per poterla scaricare essere diciamo in corso del validità della della licenza e valutate voi se non siete più in corso di verità dell'utenza se con queste cose che ho fatto vedere merita andare a pagare il rinnovo altrimenti tenete quello che avete se non volete utilizzare questi strumenti strumenti che torno a ripetere approfondirò alcuni di questi per alcuni potrebbero essere interessanti a cominciare da queste novità di questo pallino che va a sostituire round e così via comunque io vi ringrazio per essere stato stati qui con me vi chiedo come al solito un like iscrivetevi al canale ripeto l'oggetto dell'altro video abbiamo un gruppo siamo quasi 6.000 il canale è 3.000 gli altri 3.000 ando stanno ecco datevi una svegliata e iscrivetevi al canale che per me è importante veramente importante a voi non costa nulla quindi almeno anche con la campanellina potrete essere sempre vi arriva una notifica se le attivate le notifiche vi arriva la notifica di quando metterò qualcosa di nuovo sul canale di youtube ciao a tutti e al prossimo video